direi che abbiamo sbagliato molto sottoporta qualche occasione anche clamorosa perché avevamo l'occasione per chiudere la partita, me ne ricordo due con Calì, me ne ricordo con Gabbioneta, un paio di circostanze, la partita l'abbiamo sempre controllata, abbiamo fatto girare palla e potevamo chiuderla, non siamo riusciti a chiuderla, è chiaro che nel calcio poi può succedere che anche l'avversario possa creare qualcosa di pericoloso come stava succedendo, però insomma siamo in grande difficoltà numerica, ci mancano giocatori, riuscire a vincere con questo piglio venendo da una sconfitta è molto positivo, questa squadra c'è da fargli un grande applauso perché ha fatto 12 vittorie, 4 pareggi, 2 sole sconfitte con 3000 problemi come sapete voi dell'ambiente che avete seguito vicissitudini, è inutile che ci rimettiamo lì a ridire il tutto. Grazie a tutti!